È stato trovato, riverso a terra, questa mattina intorno alle 6, Eloi, Baca e Slava, 60 anni di origini peruviane, accanto al corpo dei pezzi di plastica riconducibili ai fari di un'auto. Sarebbe stato investito e sbalzato sul ciglio della strada a un paio di metri dal luogo dell'impatto, tra uno stop e le strisce pedonali che attraversano via delle brigate partigiane in località Antella, nel comune di Bagno a Ripoli. L'uomo, un operaio, si stava recando al lavoro. A trovare il corpo è stato un passante che ha chiamato subito il 118. Il sessantenne è stato trasportato d'urgenza al Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli, dove è deceduto. Sul suo corpo, abbandonato in strada, i sanitari hanno riscontrato escoriazioni a gambe e braccia, oltre alla completa rottura del capo. Lesioni ritenute compatibili con un investimento, ma dell'auto e del guidatore, che potrebbero averlo investito, al momento non c'è traccia, così come di possibili segni di frenata sull'asfalto. Potrebbero però esserci delle novità. Sono al vaglio del nucleo operativo della compagnia di Oltrarno e della stazione di Grassina le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona.